Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con il progetto Noi siamo pari, promosso dal Soroptimist Club di Gela, preseduto da Maria Grazia Falconeri. Tra le testimonial dell'iniziativa vallata dal MIUR è stata scelta l'ingegnere aerospaziale gelese Chiara Cocchiara. L'obiettivo è quello di promuovere la diffusione dello studio delle materie scientifiche tra le giovani studentesse. Sentiamo. C'è anche l'eccellenza gelese Chiara Cocchiara tra le donne che si sono affermate professionalmente in ambito scientifico, scelte dal Soroptimist Club di Gela, preseduto da Maria Grazia Falconeri. Per il progetto le studentesse vogliono contare. L'obiettivo è quello di promuovere e incentivare lo studio delle materie scientifiche tra le giovani donne che stanno per accedere agli studi universitari dopo aver concluso il ciclo scolastico alle scuole superiori. Un primo fondamentale step del progetto è previsto per giovedì 31 marzo prossima alle 10.30 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo con un convegno dibattito nel corso del quale saranno proiettati alcuni contributi con videomessaggi di giovani professioniste gelesi affermate nel campo scientifico. Tra queste c'è Chiara Cocchiara che abbiamo incontrato. Al momento non ci sono tante donne che lavorano nell'ambito scientifico. È un settore che è prettamente orientato verso il genere maschile ma senza una vera e propria ragione. Cioè in realtà la donna non ha nulla di meno rispetto all'uomo. C'è stata l'esperienza magnifica recente di cui la cronaca nazionale e internazionale si è occupata nel deserto dell'Oiuta con una simulazione sulla vita su Marte. Che progetto è e se arriveremo mai sullo spazio, su Marte? Io sono stata selezionata per far parte di un team internazionale. Erano tutti americani, io rappresentavo l'Europa ed era un team per fortuna misto. Era più o meno metà donne e metà uomini in cui abbiamo simulato quello che faremo nel momento in cui raggiungiamo la superficie marziana. Quindi simulare ad esempio come viviamo su Marte, come si svolge l'attività quotidiana, quindi il fatto che sia tutto organizzato dalla mattina alla sera. Non c'è contatto con il mondo esterno, quindi si è in un certo senso isolati sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista tecnico. Con quali ansie, con quali preoccupazioni, con quali gioie, con quali emozioni si vivono quelle 24 ore? È vero che essere in un ambiente così chiuso porta un po' di pressione, pressione psicologica, pressione anche dal punto di vista delle performance tecniche. Quindi tu sai che sei da solo e se hai un problema devi riuscire a risolverlo. E non c'è nessuno che puoi chiamare, non c'è il supporto da casa che ti dice quello che deve fare. Quindi la senti parecchio la pressione. Però è proprio una delle cose principali nel momento in cui sia, in questo caso dal punto di vista di una missione su Marte, ma anche per qualsiasi tipo di lavoro che poi viene fatto nella vita normale, come anche quello che faccio io adesso. Una delle domande principali che fanno sempre i colloqui è riesci a lavorare sotto pressione. Quindi nel momento in cui hai un problema, qualunque tipo di problema si tratti, devi essere in grado di risolverlo. Lei ha vinto un premio molto importante a Boston perché ha ideato e progettato un drone che è in grado di intercettare vita umana in situazioni estreme. Una delle applicazioni che mi sta più al cuore è che la scienza non è una scienza per sé, ma può essere una scienza anche applicata alle nostre esigenze umane. Quindi uno dei progetti che io ho realizzato è la progettazione di un drone che ha un sensore ad infrarosso ed è in grado di percepire la radiazione termica che un uomo potrebbe in particolari casi emettere. E quindi questa è una cosa importantissima perché nel momento in cui, ad esempio, un uomo si trova in un incidente in montagna oppure in mare, un drone che scannerizzando una determinata area riesce a capire se l'uomo si trova effettivamente in quella posizione. Attività di controllo ambientale sul ciclo dei rifiuti è stata effettuata dagli uomini della Capitaneria di Porto di Gela, coordinati dal comandante Pietro Carosia. Violazioni ambientali in un impianto di autolavaggio per mezzi pesanti sono state riscontrate nel comune di Gela nel corso di un sopralluogo finalizzato a verifiche in materia ambientale dagli uomini della Capitaneria di Porto di Gela, coordinati dal comandante Pietro Carosia con il supporto tecnico del personale del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta. Gli accertamenti erano scaturiti su impulso della Procura della Repubblica di Gela. I militari sul posto hanno proceduto a sottoporre a sequestro penale preventivo l'intera area di autolavaggio con cose e mezzi di lavoro all'interno che ha un'estensione di circa 700 metri quadrati. L'attività di scarica industriale è stata riscontrata infatti priva di autorizzazione, motivo per il quale il titolare dell'impianto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Gela. L'operazione si è sviluppata prima di tutto da una delega d'indagine della Procura della Repubblica. Noi siamo intervenuti insieme al personale del Libero Consorzio di Caltanissetta, quindi con l'ex provincia, a fare questo presso per luogo in questo autolavaggio parcheggio di mezzi pesanti. Lì questo parcheggio è sprovvisto di autorizzazione allo scarico, quindi tutto quello che è l'impianto e anche l'impianto di depurazione è stato posto sotto sequestro ed è stato poi convalidato dal giudice per l'indagine preliminare. Seguiranno successivamente ulteriori accertamenti per capire anche il ciclo dei fanghi, di depurazione dei fanghi e dell'altro liquame che viene trattato in questo autolavaggio. I danni ambientali, già che si sviluppano, c'è uno scarico senza autorizzazione, quindi senza un controllo, un inquinamento anche, soprattutto sul ciclo di controllo dei rifiuti, quindi riguarda anche, siccome l'impianto poi svolgeva, cioè l'acqua è depurata, andavano poi all'irrigazione di piante ornamentali, comunque andavano nel terreno, questi reflui non perfettamente depurati venivano poi messi nel terreno, quindi potevano anche creare dei danni al terreno e poi successivamente si poteva sviluppare anche la falda. Adesso ci occupiamo delle importanti novità che riguardano la rete idrica di Manfria. Abbiamo raccolto le interviste dei soggetti coinvolti. Sentiamo. L'obiettivo è quello di fare in modo che a giugno tutti i residenti di Manfria che hanno la volontà di volere l'acqua pubblica 24 ore su 24, possono averla attraverso questo progetto realizzato dal Consorzio Piana Marina che dà la possibilità ai cittadini di Manfria, ai residenti di Manfria, di avere l'acqua pubblica. L'amministrazione facendosi parte attiva ha annunciato oggi che il progetto di Consorzio Piana Marina continuerà per ricoprire tutta la rete idrica senza per questo inficiare i fondi pubblici, tant'è che Caltacqua e lato idrico hanno dato già disponibilità di valutare nell'emore che il progetto sia complementare a quello del lato idrico e quindi coincidente per molte delle parti di acquisirlo come il resto delle reti divenendo una rete pubblica a tutti gli effetti. Noi cerchiamo di dare una risposta ai cittadini, abbiamo avuto la possibilità di sostenere un project financing per poter realizzare sin da subito la rete idrica, la rete idrica che verrà realizzata in demy molto rapida perché verranno utilizzati sistemi innovativi come il Nodig che avranno un bassissimo impatto sulle strade per poter quindi dare finalmente un bene precioso come l'acqua. Da tanti anni finalmente possiamo avere l'acqua 24 ore su 24 e acqua potabile. Abbiamo lavorato in sinergia con l'amministrazione comunale appunto per poter far sì che il progetto di Piana Marina venisse esteso anche a Mampria per cui stiamo cercando di dare questo servizio che tutti i cittadini di Mampria stanno chiedendo all'alta voce. Abbiamo pensato che per noi potrebbe essere una fonte sia di investimento che di lavoro duraduro per la nostra azienda e quindi abbiamo sposato questa causa e siamo andati avanti. Oggi, circa l'anno scorso, il dottore Gio Mettarragnolo ci propone che alcune persone della zona di Mampria volevano essere serviti del servizio idrico che avevano già fatto richiesta di adesione al consorzio Piana Marina. Avendo noi consorziati ci siamo fatti i nostri conti, i nostri calcoli e abbiamo pensato di fare un altro investimento su Piana Marina. Il Partito Democratico a Gela punta sullo sviluppo portuale per l'impiego dei fondi di compensazione dovuti dall'Eni al Comune di Gela. Lo hanno detto i vertici dello stesso partito. Sentiamo. C'è lo sviluppo dell'area portuale del porto rifugio di Gela tra le priorità individuate dal Partito Democratico nell'ambito della programmazione dei progetti da finanziare con i fondi di compensazione destinati dall'Eni al Comune di Gela. I componenti del partito ritengono infatti che dare la giusta importanza alle problematiche afferenti le attività marittime a Gela possa dare il giusto impulso per un incisivo sviluppo economico territoriale. Il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Enzo Cirignotta. Ho chiesto a una riunione del Partito Democratico, del direttivo per stabilire i criteri sull'utilizzo delle compensazioni previste dal protocollo dall'articolo 6 con precisione. Diciamo che questa è una battaglia vecchia del Partito Democratico anche con la vecchia amministrazione. C'era quella di orientare in via prioritaria questi fondi verso interventi mare, fronte mare, li abbiamo chiamati. Quindi area portuale, ma già scritto sul protocollo che una parte dei fondi devono essere destinati alla riqualificazione portuale della città, il lungomare, il questione borsellino e poi un altro intervento prioritario è quello che fa riferimento al refolo in agricoltura, all'utilizzo delle acque e refole da destinare ad uso agricolo. Voi fate riferimento a una somma di circa 4 milioni di euro su quanto? Sono 32 milioni le somme previste nel protocollo e comunque i criteri che abbiamo voluto adottare, comunque indicare durante la riunione del direttivo sono quelli di andando a concentrare questi investimenti su pochi interventi, pochi interventi ma importanti e qualificati. Quali sarebbero? Stiamo lavorando per definire anche questi progetti per ora noi preferiamo parlare di criteri, come utilizzare queste somme. Naturalmente interventi che hanno un ricaduto occupazionale e per quanto riguarda lo sviluppo economico della città e poi interventi, come dicevo prima, che vanno a privilegiare in via prioritaria infrastrutture che riguardano il mare, comunque il fronte mare. Oltre alla individuazione dei progetti che ci pare di capire in corso d'opera, quali saranno le azioni postenessere dal Partito Democratico per l'attualizzazione di questi progetti? Intanto nella competenza di capi gruppo mi farò portavoce della linea politica del Partito Democratico in base a quando è stato stabilito nel direttivo. Dopodiché è chiaro che l'utilizzo delle compensazioni è un utilizzo che deve essere concordato in Consiglio Comunale e con tutti gli attori in causa. Ricordiamoci che poi deve essere stipulato un protocollo di intesa tra il Comune di Gela, la Regione Siciliana e l'Ene. E' soddisfazione stata espressa dai componenti del Comitato Porto del Golfo di Gela per la linea intrapresa dal Partito Democratico locale sulla priorità data allo sviluppo dell'area portuale di Gela. Il Comitato si legge in una nota inviata alla stampa, si batterà fino alla fine per arrivare al risultato di avere un porto fruibile per dare un po' di respiro all'economia. Concludiamo la prima parte del nostro telegiornale con una comunicazione dedicata ai cacciatori. Il termine ultimo per la consegna dei tesserini venatori è del 1 aprile 2016. La consegna potrà avvenire anche tramite le associazioni venatorie. La mancata presentazione prevede una sanzione di 155 euro. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di una iniziativa a cui Gela aderisce il 2 aprile, la giornata dedicata all'autismo. La città di Gela si accende di blu. Sentiamo. Ha coinvolto centinaia di utenti social che hanno mostrato palmi delle mani tinti di blu la promozione dell'evento Blue Day 2016 finalizzato alla conoscenza dell'autismo, realtà conosciuta da pochi e di cui la comunità recentemente ha cominciato ad interessarsi più intensamente. Quell'autismo viene definito come un disturbo generalizzato dello sviluppo che rispetto alla gravità patologica presenta delle compromissioni. Compromissioni a livello sociale per cui i bambini che poi saranno grandi, ragazzi, adulti, non hanno interesse nell'interazione con i pari e con il mondo. Compromissioni a livello cognitivo per cui che sono manifesti a livello operazionale a disabilità accademiche e di etichettamento e categorizzazione della realtà. Vengono appunto implementate delle strategie di variazione comportamentale tali da migliorare significativamente la vita dei bambini, ragazzi e adulti con autismo e delle loro famiglie. L'evento a Gela è un'iniziativa delle associazioni Oltre il Muro e il Labirinto di Carta con il patrocinio del Comune di Gela. Quest'anno due associazioni insieme collaborano per la realizzazione del Blue Day 2016. Per la prima volta a Gela si organizza un evento a livello cittadino. In tutte le città d'Italia ma anche del mondo ci si accende di blu. Quindi quest'anno anche Gela vuole aderire a questa iniziativa. Saranno tante le attività proposte il 2 aprile, partendo dalla mattina in cui ci sarà una tavola rotonda al Teatro Eschilo che comincerà alle ore 9, in cui ci sarà il primo incontro serio tra associazioni, scuola e genitori. Quindi questi tre contesti di vita abitualmente frequentati dai bambini autistici si incontreranno per un confronto serio e per raccogliere un po' le stanze del nostro territorio. Di sera invece già alle 19.30 comincerà una festa in piazza perché abbiamo voluto evitare una sensibilizzazione triste ma proprio abbiamo voluto realizzare una festa per le nostre famiglie e i nostri bambini. La chiesa sarà illuminata di blu come tutti i palazzi del mondo più importanti e comincerà la notte blu. Grazie alla partecipazione e alla collaborazione del Consorzio Gela Centro e del patrocinio di Gela, del Comune di Gela, ci sarà appunto la notte blu. È una grande manifestazione che abbiamo organizzato come Comune di Gela per la tematica dell'autismo. È la prima giornata effettuata sul Corso Vittorio Emanuele tramite l'aiuto del Consorzio Gela Centro a sfondo sociale. È una grande giornata che sarà non solo di riflessione sulla tematica dell'autismo ma anche per quanto riguarda una giornata di divertimento per i tanti bambini e le tante persone che speriamo scendono numerosi anche dal comprensorio. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 20 dell'11 marzo scorso, quarta serie speciale, è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 605 allievi marescialli all'88esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2016-2017. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro l'11 aprile prossimo. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. L'anatomia, la fisiopatologia e la terapia del cuore, dalla nascita alla vita adulta, gli argomenti al centro del congresso medico-scientifico Un cuore che cresce, promosso nell'ambito della seconda edizione delle giornate di Cuore Chiaro. Tre giorni di confronto tra cardiologi provenienti da tutta la Sicilia, quelli promossi dall'associazione Cuore Chiaro Ollus, grazie al contributo scientifico del GIEC, il gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche, con un unico obiettivo, migliorare la risposta ai pazienti. Quest'anno, Cuore Chiaro Ollus, assieme al GIEC, il gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche, un'asile scientifica nazionale, abbiamo voluto puntare i riflettori su un cuore che cresce, dalla nascita fino alla vita adulta, fino alla patologia dell'adulto. Abbiamo voluto soprattutto sottolineare l'importanza della conoscenza delle problematiche in età pediatrica, addirittura anche durante la vita fetale nel neonato, sottolineando l'importanza di identificare la normalità. Un congresso che pone ancora una volta Caltanissetta al centro della cardiologia. Questo corso del dottore Scarnato è particolarmente interessante perché molte cardiopatie congenite possono non essere riconosciute in età pediatrica e vengono riconosciute invece e devono essere riconosciute in età adulta. Molte morti improvvise sono dovute a condizioni a cardiopatie congenite o a cardiopatie che si presentano in età prematura, va bene, aterosclerosi precoce o difetti valvolari, va bene, cardiaci, che possono degenerare verso l'arresto cardiaco. I sintomi che possono mettere in allarme sono in età neonatale, persino al primo anno di vita, una difficoltà alla suzione, un rallentamento della crescita, addirittura un arresto della crescita, sensazioni di vedere un affaticamento da parte del bambino, sudorazione profusa, irritabilità. Questi sono tutti sintomi, ma soprattutto l'arresto di crescita, che devono indurre nel sospetto che possa esserci qualcosa che non va al meglio per quanto riguarda il cuoricino. Siamo all'informazione cinematografica e la macchinazione che ha ucciso Pasolini, il film in programmazione al cinetatrantidoto di Macchitella Gela, sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per oggi, grazie per la gentile attenzione, vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it, vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato, arrivederci. Grazie a tutti.